Un minuto al decongelamento Resta dietro di me, penso io allora Dov'è Ulrich? Sta arrivando Come si sta al fresco? Non è il momento di scherzare, due mostri d'avvicinamento Tocca a te, Yuri Bel colpo I primi casi si sarebbero verificati al collegio Kadic Ma cosa? Non direi che è male Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.